è un brano ricorrente in nuovo cinema paradiso e raggiunge il suo culmine nella scena finale nella quale Salvatore di Vita, ormai adulto, si ritrova da solo nell'intimità antica della sala cinematografica a rivedere un collage prezioso di tutti i baci censurati alla visione del pubblico che Alfredo ha unito per lui. Il brano è stato composto dal figlio di Ennio Moripone, Andrea. A voi Nicola Benaglia e Costanza Maestanzi. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Pianoforte di Pianoforte di Pianoforte. a tutti. 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 a tutti.